E' un nuovo episodio di Atomic Art E ci troviamo all'interno penso del VDNH a trovare, dobbiamo trovare praticamente un altro robot come lei Che si chiama Claire Quindi dobbiamo trovare questa Claire e vedere dove cazzo si trova Ma che minchia guardi mi chiedo, andiamo Sicuramente ci saranno 30 dialoghi esatto Dai un'occhiata a questo posto, è come un palazzo, che classe Però ragazze, vero, è figo Porca puttana se è figo Allora ci sono mille mila robot e questi cosi qui penso che se ti prendano ti scassano A giudicare anche dal sangue che hanno su quei robili Dobbiamo stare molto, oddio Che cazzo ti avevo visto a te strozzo di merda Come ti permetti E via pelato Ali washottiamo ormai con il coso Proveremo a risparmiare risorse Quindi andare Aia, madonna Guarda A fa culo, ti ho decapitato Proveremo ad andare quindi di ash Insomma cose per risparmiare risorse Ecco vedi cosa hanno Eh eh eh, hanno delle lame Queste ti scassano se ti prendono Meglio non rischiare Do un'occhiata qui Oh sì, goloso Atriale sintetico, proiettili per cala C'è munizioni PM Tante varie cose Qua c'è un robottino che sta salendo le scale E noi ci buttiamo così di prepotenza Ah guarda come l'abbiamo fottuto Poi la testa te la cerco eh Guarda che scala a chiocciola che si divide così Molto figlio Proseguiamo Dobbiamo scendere noi in ogni ca... Oddio Madonna Io scendo dalle scale, sticazzi Oh È un cadavere questo, non è un robot Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Beh È andato tutto secondo i piani, no? Stai cadendo Buongiorno Senti Parliamone in un altro momento Per cortesia Aia Brutto figlio Di un robot di merda Ma che cazzo Vai a cagare Oh È morto È morto Oddio Cosa mi ha preso? No C'è di nuovo il bastardo Potente Mamma mia Ma poi si ricarica Non subito Ma Cagare Ah Questa è proprio da sfogo Qua ci sono altre stanze Ma chiuse Là sotto c'è un casino Buongiorno Non volevo Ropper di coglioni Vai via Guarda che abbiamo aumentato Il risparmio Dell'energia Questo qui consumava tipo due tacchette Adesso solo Ehm Vabbè Agua è così Bad domino Grazie È arrivato un altro follow Ormai non posso registrare No mi sono buggato sulle piante No Ti prego colpiscimi Non funziona Perdonami Ma dai Ma sono buggato Raga Ma che senso ha? Ma che due coglioni E come cazzo faccio adesso? Sì 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 Eh però Che due coglioni Quando succedono queste cose Ho spartato tutti i neuromate Vodka riduce significativamente I danni in arrivo Devo ubriacarmi E mi sa che lo faremo Uffici Ah non è allagato Hanno un acquario sotto Diciamo Ok Oh ecco dov'è L'altro Com'è che si chiama? Robot Telescova Ah è andato Dobbiamo controllare Gli altri piani Che due coglioni Che ha lagato incredibile Ok raga Eravamo esplosi Eravamo esplosi male Fortunatamente Avevamo appena salvato Qui parlando con il coso E Non posso più interagirci Però mi ha pingato Altre zone Quindi O sono altre zone Dove si potrebbe trovare Un altro Robot Telescova Nuovo ciclo di scansione Modulo Arto Gamba Sinistra Non trovato Ah Perfetto Devo cercare gli arti E dove diavolo dovrei cercare? Lo giuro sulla mia unità di raffreddamento Quei pervertiti baffuti Devono averla trascinata Nella stanza della manutenzione Ci vado subito Quindi quei robot Quelli normali Quelli bianchi Si trommano le Telescope Ok Si accoppiano tra robot L'ho fatto? A caso Completamente a caso Questo Ok Ehi Questa è nuova Potresti aver bisogno Di impiegare Abilità di ragionamento Speziale Qui Nessun Potresti Queste tue serrature Sono davvero toste Sai Ma che cazzo Non devo fare questo? Ma Ruoto ancora Oddio Ma buongiorno Una famigliola felice Qua Il cameriere Della famiglia Lo scopo qual è? Ruoto un'ultima volta Eccola Ehi Charlie Perché non mettere serrature normali E affidare gli ovunque? Ma bella Sei con il codice Tu per Sospetto che sia perché Se l'avessero fatto Nel caso in cui il codice Fosse stato hackerato Chiunque sarebbe potuto entrare Senza autorizzazione Certo Ma ora ogni persona Che risolva l'enigma Può entrare In altre parole Praticamente chiunque E punto Giusto per rompere i coglioni Ammettetelo Guarda la portata Che ho preso Quello da là sotto No Se così Non funzionano Come Nell'altra roba Dobbiamo girarlo Un'altra volta Ce li siamo girati tutti Allora Un attimo Che qua c'è un piccolo Enigmino Tattico Di dover girare Questa ruota qui E cercare Insomma La predisposizione Perfetta Addio mio Sto gioco E tutti i suoi Mille mila enigmi E roba Rompi coglioni E non può essere Così è di nuovo chiuso Quindi non può essere Così è l'unico modo Quindi adesso In teoria Io salto qui E salto qua Madonna Per fare sta parte Tre ore Buongiorgio Aggiungerei Andate via Demonio Chiaccia tutto Sono morti Questo è ancora vivo Adesso non piove Ok Tutta questa strada Per Qua è tutto massacrato E le possiamo andare da qui Madonna Torchia puttana Mi sono cagato Torchia puttana Vai via Porco di quel can Sparano No no raga Io ci muoio Aspetta un neuromed Un neuromed Non me ne ero accorto Vai via Vai via Vi ho fottuto Figli di puttana E meno male che i poteri Erano inutili Ancora vivo Ancora vivo Devi morirci però Meno male Meno male Che ci sono i poteri Che ci sono i poteri La recensione che io avevo Ascoltato Diciamo è che All'occhio della community Questi poteri Non risultano Necessari Capito Quindi passano come in secondo piano Non significa che sono inutili Però è come se il personaggio Raga Tre videochiamate Mentre registro Faccio capire Dicevo È come se il personaggio Non fosse costretto A ricorrere All'utilizzo Dei suoi poteri Perché bene o male Si può passare tutto Con le armi O con Insomma Le armi da mischia Roba Robo così Però io invece Ritrovo i poteri Molto forti Soprattutto Secondo me Se si gioca A modalità alte Che ricordo Che io sto giocando A normale Ed il gioco È molto tosto Quindi a modalità Più alte A difficoltà Più alte Io presumo Che sia Quasi ingiocabile Tra la difficoltà Nel trovare I neuromed Vedete io Quanta Quanti pochi Kit Ho Ok Non si sa come Non si sa quando Non si sa perché Però abbiamo fatto Il percorso Vaglia ora E bestemmio Di servizio Della struttura Maggiore Una delle gambe Della mia cara Claire Si trova Sicuramente qui Già La verità è là fuori Non ho mai visto Robot del genere Che cazzo è Questo robot È molto pericoloso Nel combattimento Corpo a corpo Quindi è per questo Che le sto prendendo Ma no Le sto prendendo Che cazzo sta dicendo Ok Però funziona Io mi auguro Che almeno Non abbiano Tanta resistenza Oddio Porca di quella Puttana E' che se riesco A risparmiare i colpi Raga è un bene Teore dovrebbe essere No Le ho lasciati andare Dio Bu Giorgio Lei è cattivo No vai via No li lascio andare Minchia Non potevo fare Altrimenti Raga dovevo Dovevo andarci giù Pesante Cosa mi da Parti metalliche Chi Eh però Guarda quante robe Ci sono dei muletti E qui che devo andare Eccola La gamba Dobbiamo montare Dobbiamo montare Il robot Telescova Per andarcene Da qui Bene bene Che cosa abbiamo Qui Minchia ma ora Tutto sto bordello Solo per una gamba Usa la tua fichissima Autorizzazione Ok mettiamo la gamba Perfetto Mancano due braccia E la testa Però Mamma mia Quindi tutto sto casino Raga No vabbè ma sto gioco È esagerato Raga Io registro da 30 minuti Ok che Sono successe mille cose Sono crashato E quant'altro Però è vero anche che Tutto questo bordello Qui è soltanto Per trovare Una gamba Noi dobbiamo ancora Trovare La testa Due braccia Modulo Arto Braccio Destro Trovato Mamma mia Dio mio raga Comunque voi non potete capire Durante questo video Vi giuro oggi È un giorno che Metto A editare Più o meno Gli episodi Sto iniziando a registrare Adesso Mi hanno chiamato 500 volte Mentre registro Nemmeno una volta Mentre facevo altro Vi giuro io ho una certa maledizione Quando registro Proprio Accade di tutto In camera mia Salgono persone Chiamate Messaggi Cioè Un incubo Un incubo Perché mi distraggo troppo E poi mentre faccio i video Devo eliminare Già che ce ne sono miliardi Di parti da eliminare Poi me le vado a cercare Pure così Mi rompo i coglioni Utilizziamo un po' La cappa E allora Qua come funziona Ma che cazzo Ah Aspetta È un gioco per bambini È una chiave rompiccato È tipo Snake E a che serve Penso che attivi Qualche tipo di processo Guarda come te li mette Bastardi Non ci credo Non ci credo Non ci credo Minchia mi sono cagato Ragazzi C'è mancato poco Beh comunque Ho recuperato il braccio Che non è quello destro Guarda lì qui Andiamo avanti Ok fuori 1 Mamma mia Sono così Fuori 3 Penso C'era quello lì Eh Memmi che spreco di colpi Però dai Basta 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 E poi quando servono Non li abbiamo Madonna Poi non è che levano Dice poco No Squagliano Squagliano Stola ma Perché il capo Fermò la produzione Dei veri connettori beta Erano difettosi Non esattamente Il dottor Sechenoff Non era del tutto sicuro Che ci fosse bisogno Di potere discrezionale Nel collettivo Quindi il capo Voleva l'uguaglianza Ma i piani di molotov Gli fecero cambiare idea Forse compagno maggiore In che senso forse Il dottor Sechenoff Desiderava l'uguaglianza Per tutti Non più bravi dubbio Ma considera Che il connettore Alpha Esisteva Fin dall'inizio Forse non era Intenzione del capo Servirsi del potere Del connettore Alpha Ne aveva solo bisogno Per lanciare il collettivo È possibile Giusto Tutto è possibile Non so se Avete presente La situazione Ma non è semplice Eh che cazzo Si stanno abituando A schivare i miei colpi Questo qui elettrico Ne ho già rotto Tre quarti di minchia Ok fatto fuori uno Meno male che Mamma mia Questo è proprio Resistentissimo Oh Tiri il braccio Ok Primo braccio Operativo Cioè apparentemente La missione Poteva anche sembrare Semplice Perché fondamentalmente Dobbiamo trovare Gli arti di questo robot Telescope Ripararlo E portarlo Dall'altro Semplicemente Per attivare Lo stato di emergenza Lì adesso Non mi sto ricordando Cosa dovevamo fare Però ogni parte Che fai Ci sono Degli enigmi Su enigmi Con robot Su robot Che devi fare Mille di quelle Altre cose C'è un casino Non è mai nulla semplice Guarda Nuovo ciclo di scansione Modulo Arto Braccio Sinistro Trovato Posizione Piano Pavlo Potresti essere un po' più specifica È terribile È immerso in qualcosa Di caldo e appiccicoso Caldo e appiccicoso Che cazzo è Si tratta di polimeri rossi Che schifo Che cosa significa Mi dispiace Caro compagno Sono gli unici dati Che ho a disposizione Spero di essere stato D'aiuto Certamente Qui non vorrei Vai a entrarci Mi serve La macchina Quindi maggiore Armi Armi Ok raga Io direi Di Posso fare un caso Volevo craftarmi Questa ma non ho I materiali Non possiamo fare Nient'altro Vediamo su potenzia La K Che mi sembra Abbastanza scarso Caricatore Più che altro I danni C'è il freno di bocca Tutti gli altri Sono dei progetti Che non abbiamo Modulo cartuccia Questo non so Che cazzo Cosa serve Caricatore Dispositivo di mira Ah Visuale Frontale Visuale Posteriore Classiche Ah ok Perché non abbiamo Altre cose Ok Eh no Aspetta un'altra cosa Ti levi dai coglione Con queste sementi Si è incazzata Incazzata No Scappa Lui non attacca Questo tipo di robot Ed è un bene Se comenta le risorse Ce le ha Attacca Allora vediamo potenziamento Abilità se possiamo fare Qualcosina Abbiamo Ula Di nuovo 271 Appunti Volendo Volendo abbiamo Il getto di polimeri Un'altra abilità Di quanto può colpire I bersagli E superfici Con un getto di polimeri Da combattimento Quando applicati Tali polimeri Possono incendiare Elettrificare O congelare Direi che Non ci sono Dubbi Ok Mille mila Bestemmie Abbiamo aperto Anche questa Oddio Ma che cazzo Che no La vita di questa balena È stata trasferita In un contenitore polimerico Grazie all'ingegno Degli scienziati sovietici L'adattamento mimetico Dei polimeri Si deve a questi Meravigliosi animali Ah Dalla balena Sono progettati Per adattarsi Al corpo umano Senza provocare Un rigetto E persino Per sostituire Organi danneggiati Quante macchinette Ci sono per potenziale Non è un po' strano Tutte queste macchine Punti debole Oh Scanzioni i tuoi nemici Per scoprire i punti deboli Questo non lo sapevo Materiale sintetica Capsula Grazie al talento Degli scienziati sovietici Allora Qua la situazione È un po' troppo complessa C'è un boss qua Io sono appena morto Voi non avete visto Chi è il boss Vi faccio rivedere tutto Il problema è che Deve esserci per forza Un punto debole Che io non ho capito Quale È questo qui Il boss in questione Che cos'è quella merda In quei barattoli Sta attento Questa esemplare Si chiama La muscoli polimianica Da cui viene impiatato Il cervello di un cane Sì ho già visto questo schifo Prima d'ora E ovviamente Le so pure il braccio strappato Perché non poteva essere Semplicemente per terra Da qualche parte Sì ma Porca di quella puttana Ti butto un po' di bagnoschiuma Lava Ma forse sai cos'è Stabilità Che tu puoi Sia con Gli butti sto gel Sto specie di gel Addosso Che magari può essere bruciato Varie cose Cos'è ma Comunque Io Guarda raga Tanto posso pure Spiegarle tutti i colpi Anche se Se non mi uccidesse Non ce la faccio Per come ho capito Dovrebbe essere vulnerabile Al fuoco Ma Che poi noi abbiamo La scossa L'energia del personaggio Che cazzo significa La salute persa Si trasforma in energia Oh Madonna raga Ma Veramente Non si fa un cazzo Guarda come ho un'altra Sei nella merda Porca di quella puttana Ma questa cosa Non li prende Eh vabbè Madonna Non male che stiamo resistendo Ai danni Grazie Alla vodka Ma Non penso per molto Porca puttana No raga Siamo morti Siamo morti Siamo morti Ah era soltanto Una cosa per liberarmi Ho detto Guarda che qua È impossibile Che ci sia Marato figlio di puttana Bravo No Dopo tre ore Dopo tre ore Quindi Ma Ci sto provando A battere quel boss Ma è Veramente Impossibile Impossibile Quindi sto cercando Praticamente Di Vedi qua L'inventario Ecco L'inventario Su questo gioco È molto disordinato Cioè praticamente Non Non si capisce Un cazzo Cioè non si capisce Un cazzo Di quello che io Ho Di cosa sono Perché non c'è scritto Manco che cosa sono Puoi intuirlo Qui Se non ho capito male Sono tutti colpi Del Del pompa Questi sono colpi Del pompa Questi sono colpi Della pistola E questi sono Colpi assalto E guardate quante ne ho Semplicemente Non mi entrano Nell'inventario E il personaggio Li posa Guarda di Neuromed Ed è assurdo Queste cose Non so manco Che cazzo siano Io per adesso Me le metto Questa aumenta I danni Ne avrò bisogno Di un po' Di latte Condensato Mi prendo Un paio Di Neuromed Giusto Un bel po' E quest'ultima fila La riempio Di munizioni E voglio provare Se queste qui Sono cartucce Elementali Questo è un colpo elettrico Ho capito Ho capito Allora aspetta Aspetta Riprendi il pompa Metti quello da fuoco Madonna Puttana Puttani il polimero Questo qui Che è Super incendiario Eh ma non brucia E due coglioni Vedete Come Prende fuoco Guarda 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 adesso Quanti danni Ci stiamo facendo Stiamo praticamente Iniettando Di sta cosa Tipo benzina Ok Gli ultimi tre colpi Ma dovremmo farcela Cazzo Quel figlio di lontana Di un polimero Mi ha quasi fatto fuori Speriamo che non esca fuori Un'altra di quelle cose Dal prossimo barattolo Stando alle mie informazioni Il secondo barattolo È sigillato Correttamente Mamma mia raga Dammi il braccio Mamma mia raga Però abbiamo capito meglio Come funziona Tutto questo Quindi io ho delle capsule Che Le inserisco qui Vedi E metti Praticamente la capsula Lì e quindi I proiettili diventano Elettrici Di gelo O di fuoco Io ho usato La capsula di fuoco Con questo nemico Che è Debole Al fuoco E infatti Porca putana Era immortale Raga Tre ore Che provo a fare Sta roba E tutto questo Qui però È molto Diciamo Difficile Perché come vedete L'inventario È fatto un po' A caso Ecco Vedete questa cosa qui Questa Ti aumenta L'adrenalina Quindi Diciamo La stamina Quindi queste Sono le cartucce Queste ancora Non ho ben capito Cosa sono Ma le teniamo Ci prendiamo Altri colpi pompa Che non ne abbiamo Abbiamo due belli slot Qui Questi altri Ce li possiamo Qui Siamo a posto Diciamo Inza di tiro Un cannone Che rilascia Trasferire polimero E compresso Dopo lo sparo Ogni proiettivo Di polimero Mantiene la forma Grazie al proprio Cambio elettromagnetico Per rispondere Raggiungere il bersaglio È una specie di bazooka Tipo di munizioni È energia Quindi è un'arma Che consumerebbe energia Che può sostituire La pistoletta Allora Per adesso Stiamo fermi Io sono la donna Perfetta Vabbè basta Sta registrazione Del cazzo Ecco il braccio Sinistro Ora puoi ripararti Da sola Ok Ah quindi Non c'era bisogno Della testa No Manca la testa Eh Per la testa Devo andare lì Dove servivano Dei barattoli Barattoli Che io non ho Porca puttana Ah ok Non è dove c'era Il coso Dell'area Dell'esposizione Eh qua c'è la testa Podulo testa Trovato Impostazione Merda È buio qui Ho una brutta sensazione Dai non è poi così buio Buongiorgio No 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 Avete rotto i coglioni Tipo un po' tutti Mamma mia Il panico Guarda come li ho bruciati Fantastico però Combinare queste Queste abilità Mamma mia Cazzo Io E certo Si stanno impossessando Di tutti i cadavere Mamma mia Ma qua è pieno Sì Mettiamo quella elettrica Che già è usata Oh Possiamo salvare Ragazzuoli Io però Direi che Vi saluto qui Manca solo da completare La testa Dopodiché possiamo portare Il robot Tutte le scova Dall'altra Questa Claire E poi vediamo Che cazzo succede È un casino Questo gioco Un casino È proprio come avere 26 di te in culo Più o meno Sì Vabbè Signori Io vi saluto Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Di Atomic Earth Mi raccomando Perché The Forest Continuerà pure Continuerà anche Ghost Recon Ma attualmente Voglio dedicarmi un po' Su Atomic Earth Anche perché pago L'abbonamento di Xbox Game Pass Per farlo Più prolungo la situazione Più pago mesi Per abbonamento Ecco Alla prossima Sous-titrage Société Radio-Canada